Questa che vedete qua di fronte a voi è un'arcata di denti che vengono montati artificiali sopra impianti dentali. Gli impianti dentali sono delle viti che vanno dentro all'osso e la protesi è la parte che invece viene montata sopra gli impianti dentali. Questa protesi come avanzerà la ricerca sarà sempre di materiali nuovi, gli impianti dentali come avanzerà la ricerca probabilmente non ci saranno neanche più, ma ci saranno magari delle stampe di materiali ceramici oppure di materiali simili all'osso che vengono inseriti dentro all'osso. Oggi si usa il titanio, ma il titanio ve l'ho messo in mano lì, cosa c'entra col dente? Non c'entra nulla quella, è una vite. Stiamo montando in bocca, nel corpo umano cose artificiali. Alla stregua di un'arta artificiale, di una gamba artificiale e quando noi andiamo a connettere questi materiali artificiali col corpo umano c'è sempre che cosa? Il rischio di rigetto che magari non viene riconosciuto come self e quindi che cosa fa? Il sistema di difesa si allerta, buttatelo fuori, cosa è questa cosa che ci hanno messo vicino all'osso? In genere quando si hanno dei movimenti agli impianti, perché non sempre gli impianti sono ben solidi nell'osso, allora se quelli si muovono, hanno micromovimenti, non vengono riconosciuti, allora lì si ha la perdita dell'impianto. Allora cosa succede? Che per evitare questi micromovimenti, gli impianti vengono legati tra di loro. Come? Con una barra. Così si evita di avere dei movimenti. Infatti per questo quando andiamo a togliere i denti e poi mettiamo gli impianti, preferiamo sempre fare quello che è il carico immediato, ovvero andare a unire già almeno gli impianti anteriori, intanto il paziente mangia, intanto le gengive guariscono già bene intorno agli impianti e in più abbiamo meno rischio di perdere gli impianti. Ci sono altre situazioni in cui l'osso è veramente tanto danneggiato e gli impianti che mettiamo non sono già abbastanza stabili nell'osso, allora quello è uno di quei casi in cui non conviene mettere i denti subito avvitati. Ok? Quelle sono cose che comunque vede il chirurgo quando avvita gli impianti, perché ha un macchinario che gli dice con quanta forza è stretto l'impianto. Se supera i 35 newton ci puoi mettere avvitati i denti. Ok? E questa è una delle prime cose che vi sfatto, nel senso abbiamo i pazienti che delle volte pensano di poter scegliere se fare i provvisori mobili o avvitati. Noi cerchiamo di tutto per farli avvitati, perché abbiamo un vantaggio, e ve l'ho detto, però delle volte non si può fare. Che restano solidali tra loro, ma non sempre superi i 35 newton, delle volte è burro l'osso, metti l'impianto, meno male che si è riuscito a metterlo. Chiudi tutto e cerchiamo di non caricarlo, dopo sei mesi, quattro mesi apri e quello è bello solido nell'osso. Allora svitti. Allora svitti. Allora svitti. Allora svitti. Allora svitti. Allora svitti. Allora svitti.